Le dimissioni di Carmelo Callari aprono il dibattito sulla successione alla presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento. Da subito è stato dato per favorito Francesco Alfano, consigliere del PDL e dell'area che fa capo al Ministro della Giustizia, stessa corrente di Callari. Ma nelle ultime ore indiscrezioni parlano di uno scontro tra il PDL, che conta su otto consiglieri comunali, e i popolari dell'Italia di domani, il partito che fa capo a Cuffaro e gli ex Udc, che in Consiglio conta sette rappresentanti. Ma che cosa pensano i diretti interessati? Se ci dovesse essere un'ambia convergenza sul mio nome, e quindi dico ambia convergenza, sarei disponibile. Ma se dovesse verificarsi questa situazione che io vi ho detto, un'ambia convergenza, perché il presidente è di tutti. Il PDL, mi riferisco al PDL di Alfano, sono sei consiglieri, non sono otto. Per quanto riguarda invece il PD, a sette consiglieri, eravamo tutti ex Udc, siamo transitati tutti nel PD, insieme a quello che faceva parte invece del gruppo di Marco Zambuto, Angelo Principato. Quindi dal punto di vista di equilibri, sicuramente oggi siamo il primo partito nel Consiglio Comunale. L'alleanza sicuramente è forte col PDL di Alfano, questa sera vi anticipo che ci sarà una riunione, parleremo con i consiglieri del PDL di Alfano, vediamo di avere una linea conciunta. Una cosa per essere certa, l'elezione del nuovo presidente del Consiglio non sarà immediata. Prima si tenterà di trovare una convergenza. PDL e PID, alleati alla Regione come in campo nazionale, non vogliono contrasti almeno per il momento. Alfano e Gramai escludono così battaglie intestine. Siamo tutti e due dei medici, dei professionisti abbastanza impegnati, sia io che lui faremo logicamente dei sacrifici per andare a ricoprire quella carica. In questo momento tutto pensiamo fuorché avere litigi con i nostri alleati. Ma oggi chi dovrebbe fare un passo indietro per la presidenza del Consiglio? Il PDL o il PID? Ma io non penso che si tratta di fare passo indietro, dobbiamo scegliere una persona che sia gradita sia al PDL che al PID e perché no anche agli altri partiti della città di Anglicia.